18 colpi d'arma da fuoco, una pioggia di proiettili ha raggiunto l'auto su cui viaggiava Seri Shefir, consigliere del presidente ucraino Zelensky, poco distante Kiev. Shefir è sopravvissuto alla Guatom e il suo autista è rimasto ferito. L'attentato è avvenuto mentre Zelensky era a New York per la riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo non influisce sulla forza della nostra squadra, ha detto il presidente ucraino, né sul corso che ho scelto insieme al mio team per il cambiamento, per la deoligarchizzazione della nostra economia, per la lotta contro la criminalità, i grandi e influenti gruppi finanziari. Tutto questo non ci influenza in alcun modo. La presa di posizione di Kiev, che guarda con insistenza Mosca per l'accertamento delle responsabilità dell'attentato, è stata al centro della dichiarazione del portavoce del presidente russo Peskov. Purtroppo, qualunque cosa accada oggi in Ucraina, i politici sembrano sempre portati a non escludere la pista russa. Naturalmente questo non ha nulla a che vedere con la realtà, questi sono piuttosto segni di uno stato emotivo sovra-eccitato, ha detto Peskov. A New York, Zelensky porta all'attenzione delle Nazioni Unite l'intervento militare della Russia in Ucraina orientale. Un passaggio, quello del presidente ucraino, per raccogliere sostegno diplomatico per Kiev.